Il brano di una poesia di amore recitata dalla donna avesse anche ispirata al conflitto israelo-palestinesi. Questo brano fa parte di un brano di una bella italiana, di rock progressivo, a cui la più ferma era molto legata. Il gruppo era quello degli Aria, che avevano come leader una grande, forse la più grande voce del panorama rock italiano, che era Demetrius Frantus, purtroppo scoparsi molto presto nel 1979, e a loro questo brano, che è maestro della voce, la BFM aveva dedicato a Demetrius Frantus, e noi lo facciamo altrettanto. Il gruppo di un paese di amore recitata dalla donna avesse anche il paese, abitavano le pietre porte della città mi parlavano come un occhio ogni giorno mi devo la stessa cagliari per noi il giorno di notte per capare ma le stesse le pittate sono persone per farare il giro per il piano sul cielo sempre vero abitavano le pietre ma si serve qui per capare il giorno di notte pez il giorno di notte la prima di notte se faccia i non non Ci trova insieme a cantare Ufati il pomere Dore, dore Namastoni e paure Ma è stata veloce Campi una canzone Ma è stata veloce Per se cantare da E una canzone Ma è stata veloce E una canzone Mi basta Mi basta E una canzone Mi basta Mi basta Mi basta Mi basta Mi basta 없습니다 Ti basta Una nuove me, scarpe bianche, bianche nuove me, scarpe bianche, quante volte ci ho provato, quante volte ci troverò a far cantare le mie mani. Una nuove me, scarpe bianche, bianche nuove me, scarpe bianche, bianche nuove me, scarpe bianche, e bianche nuove me, abitavano il piede al cuore della città, cantava come un mato, di notte e di giorno, viveva la sua strada che di perno. Maestro del voce, cantava come un canzone, maestro del voce, cantava come un mato, Molina, molta nonorantica, cantava come un mondo, Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh